E' con grande piacere che quest'oggi ospitiamo qui con noi Paolo Zampiceni di Autismando, quindi buongiorno Paolo. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver accolto il nostro invito, sempre prontissimo quando si tratta poi del mondo che così segui con grande affetto e coinvolgimento emotivo quotidianamente. Insomma, sacrifichi anche un pezzo del tuo lavoro perché ricordiamo che lavori anche, no? Sì, capita anche questo. Capita anche di lavorare. Comunque complimenti, lo faccio ufficialmente in radio per quello che riesci a realizzare, a portare avanti. Ricordiamo appunto che l'Associazione Genitori Bambini con Autismo di Brescia e Provincia, che conosciamo, che conosco personalmente ormai da alcuni anni, potremmo dire, perché è un'associazione che è operativa ormai da parecchio tempo. Di te ti dirò un'immagine molto piacevole in più occasioni perché ci siamo incoronciati in parecchi casi, però una in particolar modo dove sono rimasto particolarmente e piacevolmente stupito della tua capacità di comunicazione nell'incontro che circa, quasi due anni fa, abbiamo avuto a Sarezzo durante un incontro con gli studenti. Devo dire che in quell'occasione varie associazioni hanno parlato, ma il tuo modo di comunicare mi ha colpito particolarmente perché sei riuscito a raccontare, anche attraverso un gioco se vogliamo simpatico, quello che è il tema importante dell'autismo. E quindi complimenti a te per la passione che ci metti, ma vogliamo raccontare un po' cos'è Autismando in sostanza? Beh, è particolare raccontare questa cosa oggi, visto che, fra le altre cose, quest'anno Autismando compie dieci anni e dieci anni di cose ne sono successi tante. Autismando nasce dal desiderio di alcuni genitori di ragazzi autistici di iniziare a avere degli spazi di confronto, di uscire dalla solitudine in cui comunque anche le caratteristiche del disturbo di tuo figlio ti conducono. C'è una fase in cui come genitori ci si sente davvero staccati dal mondo che ti circonda, sei tu e tuo figlio nella condizione di dire, ma gli altri cosa vuoi che capiscano della mia situazione? Avere la possibilità di iniziare a incontrare altre famiglie, altri genitori, iniziare a uscire da una dimensione così solo legata al proprio nucleo familiare, potersi confrontare e poter condividere anche delle iniziative è stato un passaggio importante per tutti noi. E così, anno dopo anno, siamo arrivati a oggi, Autismando attualmente sono una quarantina di famiglie circa, sparse un po' per tutta la provincia di Brescia, anche se sappiamo che i numeri dell'autismo sono molto più ampi di questi. È complicato avvicinarsi, è una realtà molto più presente di quanto possiamo immaginare, però il lavoro svolto appunto in questi dieci anni è stato incredibile. Prima di tutto nel coinvolgere le famiglie che hanno questo problema in casa, ma poi il secondo aspetto, e siamo qui anche per questo questa mattina, è sensibilizzare, è molto importante, coloro che possono approcciarsi a questa cosa in maniera magari diversa, conoscendola, imparando effettivamente cosa significa l'autismo e come bisogna comportarsi, perché ci sono dei comportamenti tipo che non vanno poi a stravolgere la vita di nessuno, ma che vanno a migliorarla molto, nei riguardi soprattutto dei bambini e anche delle famiglie. Tu hai detto bene prima, molte volte ci si sente staccati dal mondo, perché questo avviene? In molti casi, in molte malattie, purtroppo questo è il primario istinto nello staccarsi dal mondo, invece no, dovremmo imparare ad essere un pochettino più coinvolti, in maniera poi semplice e diretta, essendo un po' più fratelli nel vero senso della parola, no? Assolutamente sì. Per quanto riguarda l'autismo, le difficoltà sono correlate al fatto che l'autismo resta comunque una disabilità nascosta. Nell'autismo non c'è nessun segno esteriore che faccia capire alle altre persone l'esistenza di una disabilità. I nostri ragazzi sono ragazzi, da un punto di vista fisico, assolutamente sani, che non mostrano niente delle loro difficoltà. Il problema è quando da una fotografia di bambini e ragazzi belli, a posto, senza segni, si passa al film della loro esistenza e allora quello che emerge sono le difficoltà di comunicazione. Molti dei nostri ragazzi sono completamente non verbali, sono le difficoltà nei rapporti sociali, sono le difficoltà nel fare i conti con le regole sociali, con gli imprevisti, con quello che capita tutti i giorni. E sono difficoltà che spiazzano fortemente la famiglia, soprattutto all'inizio addirittura ci si sente quasi in una condizione di vergogna nei confronti del mondo. Perché? Perché vai al supermercato e tuo figlio inizia a dare i numeri e ti senti gli occhi di tutti addosso e ti senti riecheggiare quelle frasi che ogni tanto capitano. Ah, ma se fosse figlio mio saprei io come educarlo, come risolvere questi capricci. Che bambino capriccioso! Quando invece è la manifestazione di un loro disagio, di una loro difficoltà all'interno della dimensione autistica. Da questo punto di vista far capire al di fuori cos'è l'autismo, come si manifesta, quali sono le sue caratteristiche, diventa importantissimo per permettere alle famiglie e ai ragazzi di vivere più serenamente. Ma diventa ancora più importante se si tiene presente che noi genitori non siamo eterni e che a un certo punto noi non ci saremo più rispetto alla possibilità di tutelare i nostri figli e di permettere loro un'esistenza il più serena possibile. A quel punto qui sarà importantissimo che intorno a loro si trovino un tessuto sociale fatto di persone attente e sensibili a questo problema. che è un problema numeroso. C'è un documento recente dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna che ha fatto un po' di conti. Quello che emerge, lì hanno preso come termine di paragone i ragazzi down, con sindrome di down, quello che emerge è che nelle scuole dell'Emilia-Romagna in pratica ogni ragazzo certificato con sindrome di down ci sono 3-4 ragazzi certificati con autismo. Già solo questo dato riporta la realtà di una presenza che non è così rara e così limitata come invece si penserebbe. Per troppo tempo probabilmente non c'è stata neppure la giusta informazione e qui mi permetto di fare un mea culpa nel vero senso della parola mezzi di informazione, giornali, radio, tv. Si è avuto un po' più forse di diffusione anche attraverso internet ma ci perdiamo molte volte a raccontare chissà che cosa ad ascoltare delle bellissime canzoni per carità o a dare voce a chissà quale bravo politico del mondo quando invece magari è importante fare informazione da questo punto di vista. Proprio ieri parlavo in una trasmissione che abbiamo settimanalmente che si chiama pianeta relazioni e di come molte volte si portava l'esempio di come vediamo magari un bambino piangere dove questa madre dice al bambino non piangere soprattutto quando si è in pubblico e spesso succede che vedendo questo bambino piangere scatta il momento del giudizio da chi parente non è e immaginiamoci in una condizione diversa non abbiamo modo di poter valutare davvero le differenze e la libertà di determinate azioni è una società pronta a giudicare subito e questo credo che sia al di là di tutti i problemi che in questo paese abbiamo che nel mondo abbiamo il primo problema da abbattere in qualche modo trovare nuovamente degli stimoli di libertà mentale diversi credo che sia questo il vero cambiamento assolutamente sì anche perché non solo nell'autismo in qualsiasi disabilità esiste un momento in cui comunque il genitore fa i conti con una serie di sensi di colpa nel senso che anche se non ci sono dati di realtà anche se non esiste una spiegazione medica ma comunque l'hai messo al mondo tu e questa cosa significa comunque confrontarsi anche con dei tuoi sensi di colpa con delle tue difficoltà se oltre a quelle che comunque vivi naturalmente tu come genitore ti senti rimandato addosso anche il giudizio di chi ti sta intorno beh tutto diventa più difficile e più pesante è assolutamente assolutamente sì noi questa mattina siamo qui anche per un altro motivo poi vabbè se tu riterrai opportuno in base ai tanti impegni che già hai per l'associazione non solo vorrai magari tenere un momento fisso anche in radio noi molto volentieri mi piacerebbe riproporre in radio quel giochino che hai proposto agli studenti della scuola appunto di Sarezzo un paio di anni fa riproponendolo magari a chi non è così giovane perché spesso molte volte l'informazione manca proprio in casa e quindi il tuo tempo lo trascorri anche nelle scuole per portare quell'informazione che inevitabilmente a casa non c'è poiché attraverso la radio in casa ci si può arrivare o in macchina o in altri luoghi perché non organizzare magari questo te lo propongo in diretta un momento consecutivo ogni mese magari legato a autismando da non perdere però la data del 2 di aprile noi ci auguriamo che oltre alle 40 famiglie che attualmente sono coinvolte nell'associazione ed altre che magari si sentiranno di essere coinvolte che ci sia uno spirito di partecipazione più allargato rispetto all'iniziativa che si tiene il 2 di aprile la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo e c'è un appuntamento locale che avete ritenuto opportuno organizzare Sì, questo è il quarto anno che stiamo provando a proporre anche sul territorio bresciano questa giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo in particolare lo faremo con una nostra presenza martedì sera dalle 20.30 circa alle 22 in Piazza Loggia sarà una manifestazione particolare nel senso che non sono previste chissà quali iniziative o chissà quali cose noi arriveremo con alcuni nostri materiali con materiali di spiegazione sull'autismo eccetera ma l'invito è davvero rispetto alla possibilità una volta tanto di essere presenti come protagonisti all'interno di uno spazio cittadino in cui per contro le difficoltà dei nostri ragazzi tendono spesso a rendere più di periferia più di confine tra l'altro per questo 2 aprile ci sono anche delle cose particolari da un lato la scelta avvenuta a livello mondiale di dare uno slogan al 2 aprile di quest'anno lo slogan del 2 aprile di quest'anno sarà autismo più comune di quanto pensi i numeri li accennavo prima ma i numeri degli autismi cioè delle varie caratteristiche delle varie manifestazioni dello spettro autistico sono comunque numeri preoccupanti di recente l'organizzazione americana della sanità ha alzato un preoccupato allarme rispetto all'incremento del numero di bambini autistici nelle scuole americane in Europa i dati che sono disponibili parlano comunque di un caso di autismo ogni 166 persone circa uno o due casi su mille sono i casi di autismo più severo ma ricomprendendo anche persone che hanno tratti autistici questi numeri aumentano in maniera significativa l'altra cosa particolare che ti dico in anteprima anche se è ancora così solo voce di corridoio abbiamo provato a proporre al comune di Brescia di adottare un'iniziativa anche questa fatta a livello mondiale che è Accendilo di Blu Accendilo di Blu è un'iniziativa che è stata adottata da molte città in Italia negli anni scorsi da Roma, da Trieste da parecchie altre città con la scelta per quella sera di illuminare uno degli edifici pubblici della città di Blu come segno di attenzione e sensibilità nei confronti dell'autismo l'abbiamo proposto al comune di Brescia sembra che visto anche il precedente della loggia verde per San Patrizio sembra che stiano valutando la cosa e speriamo che scelgano di dimostrare questa attenzione se non fosse così ci arrabbiamo almeno mi arrabbio io perché insomma valutare tutte queste cose queste amministrazioni che devono valutare vabbè comunque mi raccomando comune di Brescia cerchiamo di valutare velocemente ecco l'iniziativa è un po' in questi termini io quando mi capita di parlare di queste cose tendo subito a dire attenzione l'autismo che io vivo con mio figlio l'esperienza di autismo che viviamo in famiglia dura 365 giorni l'anno non è sicuramente una giornata quella che ci cambierà la vita ma è altrettanto vero che se esiste anche solo una possibilità per essere qui alla radio e parlare di questa cosa ma per comunque cercare di far aumentare l'attenzione e la sensibilità a questi problemi io in quelle situazioni devo esserci perché questa cosa la devo a mio figlio trovo molto bello quello che ha ricordato appunto Paolo e noi non possiamo far altro che dare ulteriore corpo a questo messaggio io personalmente lo sento sento che deve essere così per il mondo di autismando ma anche per tanti altri mondi perché molte volte ci sentiamo annoiati nel fare qualcosa ed è la cosa più triste credo perché ci sono tante realtà che invece annoiate non possono esserle che richiamano solo un po' di attenzione e credo che la nostra noia magari passando le giornate su Facebook o piuttosto su altre cose potremmo invece condizionarle dando la nostra vicinanza solo quello con le parole forse sono anche troppo ma la vicinanza di fronte a determinate operazioni che poi vengono fatte di grande passione di grande cuore di grande amore di grande coinvolgimento e credo che questo davvero sia molto importante una presenza quindi per non essere invisibili noi auguriamoci che questa presenza possa essere numerosa il 2 di aprile alla giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo che vi ricordo ancora si tiene la sera quindi insomma piuttosto che stare a casa a guardare un programma televisivo anche noioso andiamo in piazza della loggia dalle 20 e 30 alle 22 io ti ringrazio anche per questo bel gesto pasquale che mi hai portato che non si vede ma che si vedrà più tardi perché a proposito di Facebook pubblicheremo una fotina mia di Paolo qui in studio con la fondazione i bambini delle fate e anche grazie a uno sponsor questa operazione è stata fatta io direi poiché in questo caso di pubblicità si tratta ma è giusto farla a chi anche a livello commerciale è sensibile a queste iniziative ma da alcuni anni le iniziative di Autismando in particolare alcuni progetti noi stiamo facendo un progetto di attività motoria con ragazzi con autismo e un progetto di acquaticità attività in acqua sempre con ragazzi con autismo parlo di ragazzi perché i nostri pesciolini più piccoli hanno sui tre anni e mezzo quattro e il più grande ha vent'anni queste iniziative sono state in questi anni rese possibili dall'aiuto che ci è arrivato dalla fondazione bambini delle fate ma è un aiuto che ha trovato supporto in uno sponsor che è la Carglass che ha deciso di adottare queste iniziative e è un un ringraziamento particolare perché il primo anno quando è iniziata questa cosa qui io avevo in mente Carglass vabbè Carglass è una sigla è un logo poi conosci le persone che fanno le domeniche lavorando in Carglass e destinando i ricavi della domenica all'associazione conosci le persone che si inventano l'idea di fare delle uova di Pasqua per raccogliere fondi per queste cose allora per me adesso parlare di Carglass significa parlare di Manuel parlare di Giovanna parlare non più di quel logo un po' anonimo ma di persone che in questi anni abbiamo conosciuto e che davvero ci hanno dato una grossa mano perché senza i loro difficilmente alcune cose le avremmo potete realizzare già che hai citato Facebook comunque a tutti quelli che avessero voglia esiste una un logo che si chiama Light It Up Blue accendilo di blu che è un logo adottato a livello nazionale a livello internazionale è una specie di banner blu con una lampadina stilizzata che ha dentro a posto del filamento un pezzetto di un puzzle ecco tutti quelli che avessero voglia di accendere di blu anche le loro pagine Facebook li invito a mettere questo logo sulla loro pagina è un segno ripeto di attenzione e di sensibilità rispetto al mondo dell'autismo io ti ringrazio Paolo ringrazio Paolo Zampiceni per la presenza qui in radio come ripeto augurandoci che sia una cosa un pochettino più diciamo frequente vederci qui in radio e che l'energia di questa mattina di questa attenzione minima che la radio possa può dare deve dare possa essere di aiuto all'associazione sempre di più grazie a te e a tutti buona Pasqua auguroni grazie www.radiovera.net notizie di attualità musica spettacolo e sport le associazioni del territorio gli appuntamenti il meteo www.radiovera.net la possibilità di sentire in podcast le interviste della radio la diretta in streaming e poi programmi e rubriche da leggere o ascoltare www.radiovera.net il primo portale radio della provincia di Brescia